Il signor Cermele è direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti, tradizione e innovazione. La Fiera ha deciso di innovarsi, di innovare se stessa quest'anno. Qual è il contributo che darà la Casa delle Tecnologie Emergenti? La Casa delle Tecnologie Emergenti ha lo scopo di promuovere innovazione sia presso le imprese, sia presso i giovani. E quindi, essendo oggi presenti tante aziende del settore agroalimentare, vuole radunarle per confrontarsi sulle opportunità nel settore. Modererò una tavola rotonda in cui ci sono sette invitati di prestigio e ci sarà un momento anche di riflessione che spero possa offrire spunti anche a tutto il pubblico. In che modo, e se già lo state facendo, l'agroalimentare può innovarsi? L'agroalimentare ovviamente si sta già innovando e si innoverà, perché le tecnologie di cui ci occupiamo sono pervasive, riguardano tutti i settori. Per prima il settore delle tecnologie e dell'informazione, già da molti anni, ma da un po' di anni si nota anche tanta innovazione in agricoltura.